ciao a tutti oggi un nuovo video che cosa mangio in un giorno sapete è inutile che mi ripeto che adoro questa tipologia di video quindi appena posso cerco di girarla e di pubblicarla sul canale si tratta di un cosa mangio in un giorno durante la settimana con due piatti nuovi che ho provato da pochissimo e mi piacciono tantissimo spero che piacciono anche a voi io vi mando un bacione vi lascio al video e iscrivetevi tutto nei commentini ciao buongiorno ecco la mia colazione di oggi allora oggi mangerò uno yogurt di soia questo qui della soia san al mirtillo buonissimo che con lamponi mirtilli e scagliette di cocco e berrò una tisana questa qui della monomelli al lampone ribes rosso davvero buonissima e ho voluto metterla qui in questo bicchiere che troppo carino mi fa impazzire e accompagnerò tutto con caffè l'immancabile caffè non può mai mancare il caffè la mattina perché non mi sveglio altrimenti zuccherato con zucchero integrale di canna questa è solitamente nella mia colazione estiva preferisco qualcosa di fresco e anche la tisana solitamente la faccio raffreddare prima di berla questa è la mia colazione ecco il mio pranzo di oggi mangerò dei gnocchetti di couscous con asparagi selvatici e funghi porcini mi piacciono tantissimo i gnocchetti fatti con il couscous perché sono davvero semplicissimi da preparare e questo piatto in particolar modo è un piatto buonissimo uno dei miei preferiti quindi questo è il mio pranzo di oggi questa è la mia merenda di oggi allora mangerò delle ciliegie che adoro sono uno dei miei frutti preferiti infatti d'estate sono felicissime ci siano e delle noci che fanno benissimo e quindi questa è la mia merenda di oggi ecco la mia cena di stasera mangerò del couscous con verdure le verdure sono miste c'è di tutto ci sono delle zucchine cavolfiori carote pomodorini asparagi porro e l'accompagnerò con degli asparagi saltati in padella fatti con olio aglio e peperoncino adoro il couscous mi fa impazzire soprattutto d'estate freddo mi piace tantissimo e trovo questa cena sia molto molto completa quindi questa è la mia cena di stasera buon appetito